Ragionare da imprenditore e diventare piattaforma per chiunque si trova nella fantapalta lavorativa, è smetterla di ragionare da operaio e da operatore. Non c'è qualcuno che ti deve dare il lavoro. Sei tu che devi disegnarti quello che è il tuo lavoro. Sia che decidi di farlo da solo, da libero professionista, da imprenditore, sia che decidi di farlo in un'azienda. E questa mentalità più autonoma, indipendente ti porta a ragionare meglio, a farti domande migliori. Quali sono dei problemi su cui tu puoi portare una soluzione.